13 gol in questa stagione, oggi un gol pesantissimo nella Bolgia dello Zaccheria, scottava quello del pallone Leonardo? Ma no, è stato un rigore decisivo, importante, mi sono incaricato perché me la sentivo. Era Brugman che forse lo voleva tirare? Ma ha preso il pallone, però poi quando ha visto che ero convinto di tirare me l'ha lasciato. E parliamo dell'episodio del rigore, ci sono state le proteste del Foggia, il pubblico ha cominciato a fischiare l'arbitro, però possiamo dire che la trattenuta su di te è stata abbastanza evidente. Ma c'è stata, c'è stata, poi io potevo arrivare sulla palla e con questa trattenuta appunto mi ha impedito di arrivare sul pallone e l'arbitro ha fischiato il rigore. Leonardo, più che mai il ritornello è sempre lo stesso, se non segna Mancuso nel Pescara sono problemi. Oggi hai segnato ancora una volta tu, questa squadra continua un po' a litigare, però con il gol nelle ultime settimane state faticando negli ultimi 18 metri. Perché secondo te? Ma credo che sia un momento, oggi abbiamo anche cambiato modulo e credo che comunque nel complesso abbiamo creato. È chiaro che ci sono i momenti in cui magari non te ne accorgi neanche tocchi la palla e va dentro, altri un po' meno. Questo è così ma è solo frutto di un momento un po' così. Ti volevo chiedere se avevi parlato a fine partita con Brugman per l'episodio del 49esimo, perché Pillon è arrabbiatissimo. Padalino ha detto ai nostri microfoni, probabilmente ha ragione Pillon ad arrabbiarsi. Insomma, che vi ha detto Gas? Il tocco Gas anticipa il portiere, anticipando il portiere il portiere lo travolge e in teoria da regolamento è calcio di rigore. Se avesse però trattenuto il pallone anziché tirare il rigore era a quel punto ancora più netto. L'arbitro io sono andato a chiedere, mi ha detto che la palla quando c'è stato il contatto tra i due era già uscita. Però io voglio dire, Brugman anticipa di netto il portiere e il portiere lo travolge, quindi la dinamica è quella. Ti chiedo un'ultima cosa da parte mia, Leo. Se con questo modulo vi siete sentiti meglio in campo, perché il primo quarto d'ora è stato forse uno dei più belli della stagione del Pescara. Molto dinamico, propositivo. Marras una volta a sinistra, una volta a destra, una volta dietro le punte, non ha dato riferimenti. Ma credo che sia una valida alternativa. Io mi rallaccio a quello che ha detto il mister nel pre-partita. I moduli possono servire, ma quello che poi conta è l'atteggiamento che la squadra mette in campo. Oggi ci siamo trovati bene sicuramente con questo modulo, però penso che quello che è più contato è stato il nostro atteggiamento che ci abbiamo messo sin dall'inizio. Infatti penso che la partita sia stata soprattutto dal punto di vista caratteriale interpretata bene. Ora, Leonardo, ne parlavamo anche con Vincenzo Fiorillo. I tifosi si aspettano questa vittoria che manca da diverse settimane. Lunedì prossimo ci sarà questo posticipo a Crotone, altra gara dura in casa di un'altra formazione impelagata nelle zone basse della classifica. Sì, sarà un'altra partita difficilissima perché, come ha detto Vincenzo, nel giorno di ritorno le partite sono tutte più dure perché i punti iniziano a pesare di più. È chiaro che noi andremo per cercare di trovare la prima vittoria di quest'anno. Scusami, ma come ti sei trovato oggi con Monachello in questo nuovo modulo con il tuo compagno di squadra? Insomma, nel primo tempo avete avuto occasioni e nella ripresa un po' meno? No, come ho detto prima, il modulo è un'alternativa valida che il mister può tenere in considerazione per il futuro. Poi quello che conta è l'atteggiamento che noi ci mettiamo durante la partita e oggi credo che sia stato ottimo. Poi col modulo ci siamo trovati bene e ora abbiamo diverse alternative. L'ultimissima proprio, Leo. Dopo il gol dell'1-1 il Pescara è tornato a spingere. Dà su la sensazione che potevate segnare il 2-1? C'è un po' di rammarico? Credo che abbiamo avuto qualche ripartenza, qualche palla dove potevamo andare a fare il secondo gol. È stato, dopo il mio gol, come hai detto tu, ci sono state occasioni che magari potevamo anche sfruttare meglio. Credo nel complesso che il pareggio sia il risultato più giusto.